Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Colangelo, professore di economia all'Università dell'Insubria e coordinatore del corso di studi di scienze del turismo. Un invito caloroso a venire a studiare scienze del turismo sulle rive del lago di Como, nel polo didattico di Sant'Abbondio, che costituisce un importante gioiello dal punto di vista turistico e che è stato alcuni anni fa ristrutturato in modo tale da fornirvi tutte le più moderne attrezzature per diventare degli operatori del turismo. Il corso è prettamente multidisciplinare, potrete studiare materie come l'economia politica ma poi anche materie di tipo aziendalistico, il diritto che è molto importante per diventare operatori turistici. Nel turismo, come potete immaginare, i rapporti internazionali sono sempre stati molto importanti. Abbiamo ormai da anni un rapporto consolidato con la Niagara University, una università americana specializzata sul turismo e vicina alle famose cascate del Niagara e inoltre non vi dimenticate del nostro programma di workshop che si svolge alle isole Maldive. Abbiamo poi una rete consolidata di relazioni con gli operatori locali del turismo. I migliori alberghi del lago di Como da anni accettano nostri studenti in stage e qualcuno di loro viene poi anche assunto a tempo indeterminato. Scegli in Subria, scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Marta, studentessa al secondo anno della laurea triennale di Scienze del Turismo e rappresentante degli studenti in Dipartimento di Diritto Economia e Culture e in Commissione Paritetica Docenti Studenti. Ho scelto di intraprendere questo percorso perché il mio sogno è quello di lavorare nella gestione dei beni culturali e del patrimonio artistico e dopo aver vagliato una serie di differenti opzioni mi sono resa conto che l'Università degli Studi dell'Insubria non solo mi poteva offrire la migliore preparazione in questa laurea triennale ma mi dava anche la possibilità grazie alla scelta dei percorsi opzionali, di corsi facoltativi e alla possibilità di effettuare al terzo anno un tirocinio formativo di poter formare il mio percorso in base alle mie preferenze. L'Università degli Studi dell'Insubria è un ambiente piccolo e raccolto che stimola gli studenti nell'apprendimento e permette un contatto diretto e sempre costante tra gli studenti, i docenti e il personale universitario. Se anche tu pensi che questa sia la scelta giusta per te, scegli Insubria, scegli oggi il tuo domani. Grazie.